John Blackstar, astronauta. Attirato in un buco nero, approda in un universo alieno. Intrappolato nel pianeta Sagar, Blackstar viene raccolto dai minuscoli tropici. Si unisce subito alla loro lotta per la libertà contro il crudele Overlord. Egli li domina grazie alla possente stella del potere, divisa in spada del potere e spada stellare. E così, con la spada stellare nella mano, Blackstar insieme con i suoi compagni lotta per salvare il pianeta Sagar. Questo è il suo destino. Eccomi, io sono John Blackstar.